Allora, buonasera a tutti. Questa sera parliamo un po' di Proxmox, che è un programma di virtualizzazione. Volevo portare la mia esperienza sull'utilizzo di questo programma, che non è lunga, quindi mi scusi in anticipo se dico qualche stupidaggine, qualche incorrettezza. Allora, il programma della serata, avevo pensato di introdurre un po' la virtualizzazione in maniera molto breve, perché immagino che qua siete tutti esperti e tutti già preparati sulla virtualizzazione. Comunque mi sembrava doveroso, anche per magari spiegare alcuni termini che troviamo all'interno di Proxmox, per capire in definitiva cosa stanno a significare. Poi passeremo a presentare realmente chi l'ha fatto, cos'è, come funziona Proxmox, cosa fa nello specifico. Vedremo poi l'installazione in maniera molto veloce, perché è una cosa veramente banale. E poi io questa sera ho portato una macchina, che è quella che vedete là alle mie spalle, dove installato il server Proxmox, e quindi andremo a provarla live, tutti insieme, insomma. Allora, che cos'è la virtualizzazione? Quindi tramite la virtualizzazione è possibile eseguire contemporaneamente più istanze di sistemi operativi in un'unica macchina host. Quindi, se consideriamo di avere una macchina fisica, quindi con il proprio CPU, con la propria RAM, con le proprie schede, con il proprio hard disk, sopra di questa possiamo creare delle istanze virtualizzate, praticamente, di ulteriori macchine, completamente virtuali, che a sua volta hanno il loro disco, la loro RAM, il loro processore, la loro CPU, tutto quanto, insomma. I sistemi operativi, che installiamo sopra le macchine virtuali, praticamente, colloquiano con le risorse della macchina fisica attraverso un componente software che si pone a metà, quindi, quindi c'è uno strato software tra la macchina fisica e le macchine virtuali. La macchina fisica, anche sotto, in maniera così, anche sotto Proxmox, prende il nome di host, mentre tutte quante le macchine virtuali che creiamo sopra, sopra lo strato di virtualizzazione, vengono chiamate West. Possono essere, ovviamente, una, due, tre, cinque, quante vogliamo. Più macchine virtuali condividono le risorse hardware senza interferire tra loro. Quindi, ogni macchina virtuale che noi montiamo sopra un virtualizzatore, che a sua volta è dentro, appunto, la macchina fisica, è completamente separata una dall'altra. Quindi, io ipoteticamente, anzi, come funziona, posso installare qualsiasi tipo di sistema operativo sopra. Quindi qua posso installare Windows, ad esempio, e di qua posso installare Linux. Non interferiscono in nessun modo tra di loro, perché sono realmente macchine totalmente separate una dall'altra. Quali sono i vantaggi della virtualizzazione? Sono veramente tantissimi e dipendono dalla situazione in cui stiamo lavorando, cosa stiamo facendo, quindi è difficile elencarli tutti, perché sarebbero tantissimi. Ho provato a riassumerne alcuni, per esempio, la riduzione è il consolidamento dei server fisici con relativa diminuzione dei costi hardware. Che ne so, pensiamo a un'azienda che ha due, tre, quattro server fisici che sicuramente sono sovradimensionati, come quasi sempre succede. Si può tranquillamente portare tutte queste macchine fisiche su un server virtuale, quindi ho una macchina solo e quindi tutto quello che comporta riduzione dei consumi di alimentazione elettrica, per esempio, minore manutenzione dell'hardware, perché non ho più cinque macchine, ne ho una solamente, minore anche manutenzione dell'hardware, facilità impressionante della migrazione delle macchine virtuali. Qua per esempio posso portare un esempio, io qualche mese fa ho spostato una delle macchine virtuali che penso posso dire i nomi da dentro, da che avevo dentro Aruba e ho deciso di provare un altro provider, un'altra web farm che è OVH in Francia per esempio. Cosa ho fatto? Sono entrato, questa è la soluzione più complessa, dopo vedremo che Proxmox permette migrazioni molto più facili e veloci. Sono entrati in SSH sul server, diciamo in questo caso è un server in Toscana, quindi sono entrati in SSH sul server in Toscana con un comando semplicissimo scp trasferito solo il file della macchina virtuale sul server in Francia. L'unica cosa che ha dovuto fare in Francia è premere play su Proxmox. In automatico Proxmox ha visto che all'interno dell'interfaccia, all'interno della cartella dove tiene le immagini virtuali c'era un'altra macchina, in automatico ha visto che c'è la macchina, ha montato sulla pagina di amministrazione la stessa rama, la stessa rama, la stessa rama della macchina e tutta la macchina era già pronta, ho dovuto solo premere play. La seconda per capire che tu lo vedi Proxmox sulla Lumba e Proxmox in Francia. Esatto. Su in Francia l'ho montato apposta per fare questa cosa, per provare un altro provider praticamente. Se invece, appunto parlando di vantaggi, non avessi avuto, fosse stata una macchina fisica, non fosse stata una macchina virtuale, la cosa sarebbe stata molto, molto più complessa. Per esempio facciamo finta che dovevo trasferire una macchina con Windows, dovevo fare una un'immagine del disco fisico di Windows, lo dovevo passare in Francia, lo ammontavo sulla macchina in Francia fisica, premevo play, sicuramente Windows si incazza perché da schermata blu, chipset non è quello, quindi hardware completamente diverso, Windows non partirà quasi mai e quindi avrei dovuto chiamare OVH, sentire e farmi installare un sistema operativo, installare tutti i software che mi servono sopra ovviamente la macchina per gestire siti web e quant'altro, avrei dovuto prendere i backup della macchina in Toscana, passarli in Francia e ripristinare tutti i backup, installare una miriade impressionante di programmini, di utilità per i firewall, per i siti web, per i siti web magari che all'interno ce ne sono più di clienti che non li hanno aggiornati, sono più vecchi quindi avevo bisogno di più versioni di PHP installate sul server, quindi sarebbe stato un lavoro immane, veramente lungo e dopo senza contare che la macchina ce l'hai non da due giorni ma ce l'hai per esempio da diversi anni, quindi nel frattempo hai fatto una miriade di tarature, di modifiche sul server che magari non ti vengono neanche in mente, diventava quindi un lavoro impegnativo, non so neanche se l'avrei fatto lo spostamento sinceramente se la macchina era fisica, mentre con la macchina virtuale, play, la macchina è ripartita immediatamente, funzionava esattamente come prima, tutto perfetto, come vantaggio direi che non è male, poi quattro vantaggi, semplificazione del disaster recovery di backup, anche qua vale lo stesso discorso appena fatto, per esempio disaster recovery, si fulmina una macchina fisica, anche qua devo ristallare tutto il sistema operativo, ripristinare i miei backup, rimettere in moto tutto, mentre con le macchine virtuali io ho il backup completo di tutta la macchina virtuale, hardware compreso, quindi quando ripristino, faccio un restore del backup, io ripristino completamente tutta la macchina, riparto esattamente da com'era un minuto prima, se ho il backup del minuto prima, non devo configurare assolutamente niente, ho il backup perfetto di tutta la macchina. Altri vantaggi, abbiamo alta disponibilità di dati sui cluster, gli sviluppatori per esempio possono usare diversi ambienti, ci sono programmatori che devono utilizzare, devono testare il loro software su più piattaforme, su vari sistemi operativi, possono avere una macchina unica e virtualizzare 3, 4, 5 sistemi operativi senza problemi, facilità di gestione e altri vantaggi che vediamo sicuramente fra poco, anzi li proviamo. Allora, ci sono tra i software di virtualizzazione, ci sono due grandi famiglie di virtualizzatori, uno sono gli hosted hypervisor e gli altri sono i bare metal hypervisor, cosa significa? Allora, sugli hosted abbiamo la macchina fisica, quindi l'hardware per capirsi, sopra è montato un sistema operativo, che può essere il più svariato sistema operativo, poi sopra ci montiamo l'hypervisor e sopra l'hypervisor vengono create e gestiamo le macchine virtuali. Un esempio per esempio di questa soluzione qua potrebbe essere virtualbox, per esempio funziona lo stesso sistema, quindi abbiamo il nostro alla mostra una macchina fisica, abbiamo il sistema operativo, sopra ci abbiamo installato virtualbox e sopra virtualbox abbiamo le macchine virtuali che gestisce virtualbox, sull'hypervisor invece, scusate, sul bare metal invece, è un po' differente la situazione, abbiamo la macchina fisica sempre, non abbiamo il sistema operativo ma è direttamente l'hypervisor che fa da sistema operativo e quindi l'hypervisor da qua a sua volta mi gestisce le varie macchine virtuali che abbiamo sopra, questa soluzione qua ha dei vantaggi perché è più veloce rispetto alla soluzione host perché non abbiamo lo strato del sistema operativo sotto ed è una soluzione diciamo più professionale rispetto alla versione hosted. Proxmox fa parte di questa tipologia di questa famiglia di hypervisor appunto bare metal. Allora Proxmox intanto in realtà si cremerebbe virtual environment, scusate la pronuncia veneta del mio inglese. In realtà Proxmox sarebbe il nome dell'azienda, però ormai è entrato in uso comune di chiamarlo Proxmox e continuiamo a chiamarlo Proxmox. È nato nel 2008 quindi ha compiuto 10 anni quest'anno diciamo, è un progetto open source sviluppato e mantenuto dall'austriaca Proxmox server solution con il patrocinio dell'internet foundation in Austria rilasciato sotto licenza new linux gpl3. Proxmox è una piattaforma di virtualizzazione basata su linux debian a 64 bit quindi sotto in realtà hanno utilizzato debian a tutti gli effetti. Qua ripete un po' quello che ho detto prima l'ambiente è pronto in pochi minuti e permette di eseguire facilmente macchine virtuali in tutto gestibile tramite una semplice interfaccia web. Questo è uno dei grossi vantaggi che ha Proxmox perché quando io vado a utilizzare Proxmox non ho bisogno di installare un software, un client sul mio computer. Tutta la gestione la faccio collegandomi direttamente via web al server remoto tramite la pagina web che mi restituisce Proxmox e io amministro tutta quanta, tutta la macchina via web quindi da qualsiasi parte del mondo diventa ultracomodo praticamente. Con Proxmox non solo posso virtualizzare le macchine per esempio come fa VirtualBox per capirsi all'interno della macchina fisica. Quindi ad esempio se noi facciamo delle macchine virtuali dentro il server là che adesso c'è Proxmox non solo posso virtualizzare quelle macchine all'interno là ma posso virtualizzare un'intera infrastruttura di rete che adesso vediamo. Quindi posso virtualizzare quella macchina là, virtualizzare tutte le macchine virtuali all'interno di quella macchina fisica però se ad esempio ho un'altra macchina fisica che si chiama Nodo per Proxmox a casa di Marco per esempio questa sera io posso amministrare le macchine qua, le macchine a casa di Marco, le macchine che ho in Francia, le macchine che ho che ne so in qualsiasi altra parte del mondo, posso amministrare gli storage perché non è detto che i dischi fisici delle macchine siano all'interno effettivamente delle macchine queste qua fisiche che mi servono per virtualizzare. Quindi in realtà posso gestire tutta la mia infrastruttura di rete da un'unica interfaccia, rete compresa, compresa anche la rete. Posso gestire anche l'alta affidabilità quindi se ho bisogno di gestire l'alta affidabilità sui miei server utilizzando i cluster posso fare anche questo con Proxmox, diciamo che tutto lo rende un prodotto di fascia professionale insomma. I programmatori di Proxmox in realtà non hanno scritto tutto il codice del virtualizzatore, inteso come programma che mi fa la virtualizzazione. Non hanno fatto altro che mettere assieme già i moduli ultracolaudati di Linux, i moduli che gli servivano, quindi avevano già dei moduli già pronti e funzionanti, li hanno messi tutti assieme e hanno creato un'interfaccia per amministrarlo. La cosa comunque non è stata semplice perché i primi anni da quello che ho letto hanno avuto diversi problemi e ci sono stati bacchi per diverso periodo, per un bel periodo di tempo. Adesso comunque io talmente l'ultimo utilizzo è sicuramente ultra affidabile, non ha nessun tipo di problema, anzi funziona molto bene. I moduli che hanno utilizzato, appunto, che hanno messo insieme per virtualizzare soprattutto, diciamo sono due i principali, sono l'LXC e il KVM. Premessa. Se noi, per esempio, andiamo sui prodotti più blasonati tipo VMware o Goosephere di Microsoft, che sono un po' i prodotti similari a Proxmox, quando andiamo per virtualizzare abbiamo una sola possibilità, cioè io entro dentro VMware, devo crea macchina virtuale, punto e basta. Creo la macchina virtuale con tutti i suoi parametri, per carità con tutto, è una possibilità di virtualizzazione, come ce l'ho anche, per esempio, su VirtualBox. Io ho solo un tasto, crea macchina virtuale. Proxmox, invece, ha due modalità di virtualizzazione. Utilizzando il modulo KVM riesce a fare la full virtualization, cioè la macchina virtuale completa di hardware, sistema operativo, tutta completa, che è praticamente la stessa macchina che crea, tra virgolette, quella full, che crea VMware o che crea VirtualBox, visto che mi ha fatto esempio di questi. Inoltre, però, con Proxmox, utilizzando l'LXC appunto del kernel Linux, posso creare anche dei container Linux, quindi posso creare anche dei container, delle macchine completamente separate Linux, con sistemi operativi Linux completamente separate tra loro. Dopo comunque li vediamo più nello specifico. e gli hypervisor più famosi e brasonati appunto, VMware, non gestiscono i container e quindi l'ho già spiegato. Allora, l'LXC, il modulo che utilizza Proxmox per i container, è una soluzione che viene sopportato Linux e i LXC in completa sostituzione di OpenVZ, perché Proxmox, prima della versione 4, utilizzava il famoso OpenVZ, credo che più o meno tutti avete sentito parlare. Dopo la versione 4 invece sono passati all'LXC per vari motivi interni loro, insomma. è una tecnologia di virtualizzazione basata sul kernel Linux, ovviamente, come abbiamo già detto, permette di creare e isolare istanze, che sono chiamate container, multiple, sullo stesso sistema operativo Linux. Ogni container, anche se condivide lo stesso kernel della macchina host che lo ospita, quindi condivide il kernel della macchina Debian, in questo caso, si comporta esattamente come un server autonomo, quindi ogni container è una macchina completamente separata dalle altre, si comporta come una, diciamo quasi come una full virtualization. Può essere riavviato da solo, può essere riavviato indipendentemente, avere il proprio utente root, può avere i propri utenti, può avere il proprio indirizzo IP, i propri indirizzi IP, la propria memoria, i propri processi, le proprie applicazioni, le proprie librerie di sistema e i propri file di configurazione. Quindi una macchina completamente separata dal, da tutte le altre e anche dal... separati insomma, ecco, non mi viene il termine. l'unica, diciamo, cosa negativa, se di cosa negativa possiamo parlare, che con questo sistema, con l'LXC, non posso virtualizzare un sistema operativo Windows, perché se condivide il kernel e Linux, non posso avere una macchina Linux come una macchina Windows o come container. KVM, invece, che sta per kernel virtual machine, è una tecnologia di virtualizzazione composta da un modulo KVM.co integrato nel kernel Linux dalla versione 2.620. Al contrario quindi di LXC, permette di creare più macchine virtuali completamente indipendenti dal kernel, dell'host, su cui si può far girare, ovviamente, qualsiasi tipo di sistema operativo, Windows, FreeBSD, Solaris, tutti i tipi di Linux, qualsiasi sistema operativo, insomma, che voglio far girare. Il modulo KVM di per sé non esegue nessuna emulazione, ma consente la gestione della virtualizzazione dell'hardware, esponendo le sue capacità ad un secondo componente, detto QEMO, che si occupa dell'emulazione delle macchine virtuali. KVM fa quindi da tramite tra le richieste fatte da QEMO e il kernel, praticamente. Allora, vediamo un po' cosa anche in grado di fare. Proxmox può essere eseguito come cluster, prima di tutto, e anche come cluster alta filabilità, ovvero in modalità con una configurazione che si basa su un nodo primario, detto master, e gli altri nodi che sono detti slave, che possono essere 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100, quanti vogliamo, ovviamente. Questi nodi sono connessi insieme, in modo da formare, dal punto di vista logico, un'unica grande macchina, per capirsi. Con l'implementazione di un cluster, quindi, si è in grado di bilanciare il carico di lavoro su diversi host, aumentando la disponibilità delle macchine virtuali. Quindi, se io ho un server, facciamo un esempio, un server web che ha un milione di accessi al giorno, la mia macchina da sola poverina non ce la fa perché è in full piena, posso creare un cluster e quindi ne metto un'altra a fianco che fa la stessa cosa e quindi bilancia il carico degli utenti, se non mi basta ne metto 3, ne metto 4, ne metto 5, ne metto 6. Si è in grado, inoltre, di eseguire la migrazione in tempo reale, ecco quella che ho fatto io prima che vi spiegavo che ho spostato il server in Francia. In realtà Proxmox è in grado di farlo direttamente dall'interfaccia di amministrazione, quindi posso entrare in Proxmox, vedo il nodo, questo per esempio di questa sera, quella macchina fisica la ricordo che è un nodo, vedo anche il nodo a casa di Marco, per stare sempre in esempio, prendo una macchina virtuale, un clic sposta a casa di Marco e viene spostata in diretta a casa di Marco, anche senza stop fisico della macchina, cioè se sono utenti collegati non perdo tempo e non ho nessun downtime sul servizio che do ai miei clienti in questo caso. Oppure anche in caso di manutenzione hardware, per esempio, è possibile spostare al volo le macchine virtuali tra un nodo e l'altro senza tempi inattività, quindi se ho questa macchina qua che a un certo punto dobbiamo cambiare il disco perché vogliamo montare per esempio un SSD o dobbiamo fare un aggiornamento, questa qua va spenta, non posso dare un disservizio ai clienti, si sposta in un secondo, spostiamo la macchina su un altro nodo, questa qua, quindi si può spegnere tranquillamente, cambiamo e facciamo tutta la manutenzione che c'è da fare e dopodiché ritorniamo indietro e riportiamo la macchina virtuale dove era. poi in base alla configurazione di una virtual machine o di un container, se è configurato come alta filabilità e un host fisico si guasta, la virtual machine viene arreviata automaticamente su uno degli altri nodi che compone il cluster. Stesso esempio, se questo qua è un cluster tra la stessa macchina, abbiamo fatto un cluster che comprende questo nodo e il nodo a casa di Marco ed è configurato in alta affidabilità, che è una modalità appunto per avere la massima affidabilità del sistema se ho delle importanti applicazioni sopra. Mettiamo che questa macchina improvvisamente si guasta o viene tolta la tensione elettrica, quindi la macchina va giù, automaticamente senza chiedere niente a nessuno, senza fare nessuna operazione manuale, Proxmox fa partire immediatamente l'altro nodo, l'altra macchina per esempio nel nodo a casa di Marco per capirsi. Quindi una funzione molto interessante che è stata implementata da un bel po' su Proxmox. backup e restore. Lo strumento integrato su Proxmox è in grado di creare backup sia istantanei che schedulati, cioè posso cliccare ok fa il backup immediato oppure schedulare, cioè nel senso faccio i backup per data, per ora, come tutti i programmi di backup. Si posso inoltre creare delle istantanee, quindi degli snapshot, praticamente delle fotografie del sistema. Posso, come posso dire, fermare un secondo, fare un'istantanea del sistema operativo, fare quello che devo fare se devo fare degli aggiornamenti, delle cose un po' rischiose, qualcosa che magari può darmi dei problemi. Se mi dà il problema ripristini in un secondo lo snapshot e ho la macchina esattamente come prima, perfettamente funzionante. Non è un backup, ovviamente. Snapshot è una cosa completamente diversa. Per il backup viene creato un archivio compresso o in formato LZO o in formato GZIP che comprende sia il disco della macchina virtuale che ho fatto al backup, sia tutti i file di configurazione della macchina virtuale. Quindi in un unico file GZIP LZO io ho tutta la macchina virtuale. Posso prenderla, spostarla su un'altra virtualizzatore, portarmela in giro. Io ho tutta la mia macchina completa in un file solo. Caratteristiche principali del backup è la completa integrazione con l'interfaccia grafica di Proxmox. Posso fare il backup al volo di LVM, quindi i snapshot. Posso schedulare i job di backup. Posso fare il backup subito tramite interfaccia grafica. Posso fare ovviamente un restore o del snapshot o del backup, sempre tramite interfaccia grafica. E posso ovviamente monitorare tutto tramite interfaccia grafica. Posso vedere quindi cosa sta succedendo, cosa sta facendo. Posso vedere tutti i job, i processi direttamente da interfaccia grafica. Networking di Proxmox. Utilizza un modello di rete, è il bridge praticamente, è un ponte, su cui tutte le macchine virtuali possono condividere un bridge come se i cavi di rete di tutte le virtual machine fossero collegati allo stesso switch. Per il collegamento di macchine virtuali con il mondo esterno, i bridge sono collegati alle schede di rete fisiche dei server host a cui sono assegnati configurazioni di rete. In questo modo è possibile costruire compresse rete virtuali flessibili per gli host sfruttando tutta la potenza dello stack di rete Linux. Praticamente tutto è virtuale. Ho creato le mie macchine virtuali che hanno una loro scheda rete virtuale e sono tutti connessi allo stesso switch di rete virtuale anch'esso. Quindi posso fare configurazioni dalle più semplici alle più stratosferiche dal punto di vista networking. Posso mettere le rete nelle macchine virtuali, posso fare un milione di altre cose spaziali che magari vediamo un po' più avanti. Storage. Qua la cosa diventa interessante. Proxmox utilizza un controllo dello storage molto flessibile. Le immagini delle macchine virtuali possono essere memorizzate nello storage locale oppure su uno storage condiviso come un NFS, una SAN, ad esempio IceCase, FC e vi dicendo. Quindi quando faccio una macchina virtuale, normalmente su tutti quanti, so che abbiamo fatto già delle serate su VirtualBox, faccio la macchina virtuale e creo subito il disco che è all'interno del computer dove crea la macchina virtuale. Su Proxmox invece è molto più flessibile la cosa. Io posso creare una macchina virtuale ma posso dire che il disco della macchina virtuale, proprio l'hard disk virtuale della macchina virtuale, non è all'interno della stessa macchina ma per esempio si trova su un altro nodo. o per esempio se ho la disponibilità è dentro una web farm dove chi mi dà i servizi ha una SAN, quindi una serie di cluster e di server che mi danno appunto la possibilità di collegarmi, di avere un disco virtuale, ultra ridondato, con tutti i crismi mai possibili immaginabili, di sicurezza. Quindi posso avere lo storage anche staccato dalla mia macchina fisica. Altro esempio, posso anche avere un QNAP a casa, un normalissimo QNAP, si condivide in quel protocollo NFS che è supportato da Proxmox una cartella all'interno del QNAP, la si mappa all'interno di Proxmox, Proxmox lo vede come un disco a tutti gli effetti, lo aggiunge quindi allo storage di Proxmox. A quel punto la posso decidere, per esempio, di automaticamente, tot giorno, tot ora, faccio i backup sul NAS di casa o su un mio computer, un free NAS che ho da un'altra parte, oppure su un altro disco di un altro nodo virtuale di Proxmox. È ultra, adesso forse stiamo facendo un po' di confusione, ma è molto varia e flessibile la cosa dal punto di vista dello storage. Lo storage di Proxmox praticamente supporta qualsiasi tipo di tecnologia che è supportata da Debian, quindi iSCSI, ZFS, CIF, NFS, tutti i protocolli di storage praticamente disponibili, praticamente tutti quelli di Linux diciamo. L'interfaccia di amministrazione, che abbiamo detto funziona via web, è semplicissima da usare, non vi è alcuna necessità, come abbiamo già detto, di uno strumento separato per la gestione o di altri nodi supplementari né di database esterni, quindi non sono costretto, come per esempio era VMware qualche anno fa, di avere il programma client per connettermi al server. Qua invece non ho bisogno di niente, mi connetto via web, metto l'indirizzo, punto e basta, vedo tutto. Fine. Se si utilizza già un cluster, è possibile collegarsi a qualsiasi nodo che lo compone per gestire l'intero cluster. La gestione avviene tramite una console web basata sul framework JavaScript e consente all'amministratore il controllo di tutte le sue funzionalità. Per tornare all'esempio di prima, se io sto amministrando le macchine virtuali su questa macchina che abbiamo dietro le spalle, dove vedo non solo le macchine virtuali che ho dentro questa macchina, ma vedo anche tutte le macchine virtuali che sono all'interno dell'altro nodo a casa di Marco, per tenere l'esempio, e vedo anche tutte le altre macchine virtuali e anche tutti gli altri dischi di rete che sono in giro su tutta la mia struttura. Se sono collegato a questa macchina, questa macchina si rompe, io non ho più accesso a tutta la rete. Mi connetto immediatamente al nodo a casa di Marco, in questo caso, e rivedo tutto il resto della rete. Dopodiché avrò modo di ripristinare la macchina, sistemarla. Ho sempre accesso, da qualsiasi punto che mi vada a collegare a tutti i nodi, ho accesso quindi a tutta la mia struttura virtuale. L'interfaccia ha una ricerca rapida delle macchine virtuali, in grado di gestire migliaia di virtual machine, per capirsi. Ha una console VNC sicura, supporto SSL, ha una procedura guidata per la creazione di server virtuali e dei contenitori, quindi il KPM e le VXC. Una perfetta integrazione e gestione di cluster, gestione dei permessi su tutti gli oggetti, sia sulle virtual machine, sia sui container, sia sullo storage. Tecnologie IAX per gli aggiornamenti dinamici delle risorse. Comunque questa qua fra poco la vediamo, quindi facciamo prima a vederla che a spiegarla. Requisiti minimi almeno per testare Proxmox. Allora, minimo bisogna avere un processore 64 bit. Poi bisogna avere un processore che all'interno abbia supporto nativo, quindi fisicamente all'interno del processore. sugli Intel c'è una parte proprio dedicata alla virtualizzazione che si chiama Intel VT, sugli AMD invece AMD V. Se questo processore ha queste funzioni, si può fare la full virtualization col KVM. Se no, non è possibile, ma questo non solo per Proxmox, per tutti i sistemi di virtualizzazione, anche la concorrenza, VMware, Microsoft e quant'altro. Richiede almeno un giga di RAM, almeno un disco, ovviamente, e almeno una scheda di rete. Raccomandati invece per avere i server o una macchina in produzione, questa lista l'ho pescata, ma mi sa che ho pescato una lista un po' adattata, perché vi riportano ancora il dual core e il quad core, quindi sicuramente siano poi una lista vecchiotta. Diciamo che comunque il supporto Intel VT e AMD, ormai tutti i processori in commercio ce li hanno, insomma dal dual core in poi mi sembra tutti quanti, quindi tra i 5 e i 7 c'erano tutti il supporto alla virtualizzazione. Ovviamente è raccomandata CPU 64 bit, ma direi obbligatoria. 8 giga di RAM, se sono di più meglio, ovviamente la mia macchina fisica utilizza un po' di RAM, più devo dare della RAM anche alle macchine virtuali che vado a creare, quindi più RAM ho ovviamente meglio è. loro consigliano di avere un ride dei dischi hardware, non software, anche se io lo utilizzo funziona benissimo, se uno non ha grossi problemi, ne ha grossissime esigenze di questa gigantesca affidabilità funziona perfettamente. vogliono dei dischi, sarebbe meglio avere dei dischi per la grande mole di dati in scrittura sulla macchina, dei dischi 15.000 giri SAS, che adesso tra l'altro ci sono gli SSD data center che sono anche molto più veloci. e due schede di rete. Due schede di rete perché? Perché anche qua ho varie possibilità di gestione della cosa, per esempio se faccio un cluster di due o più macchine, appunto per avere, che ne so, l'alta disponibilità di dati su due macchine, ovviamente le due macchine devono essere perfettamente sincronizzate con i dati, se un cliente vede questa macchina qua e fa delle modifiche al database, un secondo dopo ricollegandosi si trova per sbaglio sull'altra macchina, deve rivedere le stesse modifiche ovviamente, quindi le macchine devono essere completamente sincronizzate in tempo reale una con l'altra. Posso per esempio dedicare una scheda di rete che è configurata per esempio in rete locale, per la configurazione, per l'alto traffico di sincronizzazione tra le due macchine, mentre l'altra scheda di rete la dedico alla connessione a internet, a elargire quello che deve fare il server in internet, e quindi comporta che anche l'alto traffico che ho fatto tra le due schede in rete locale per la sincronizzazione non va a impegnarmi banda in internet e la scheda di rete che comunica con i clienti, quindi separa letteralmente sincronia, sincronizzazione dai servizi praticamente, oppure si può tranquillamente gestire che una seconda scheda di rete serve per pescare i dati dal NAS che ho in rete, per esempio per avere il disco di rete. Questi sono poi i requisiti insomma di sistema di Proxmox. se io ho una macchina fisica posso prenderla e spararla e fargliela digerire a Proxmox? certamente sì, ci sono un'infinità di soluzioni per fare questo, le più utilizzate sono Clonezilla, l'IBCD, quindi faccio partire il boot di Clonezilla, mi faccio l'immagine nel formato corretto che dopo la vede Proxmox e posso passare l'immagine della mia macchina fisica, la faccio diventare praticamente virtuale e gliela do in pasta Proxmox che la fa partire. Posso farla anche con la conversione da disco fisico a RAV tramite SSH, posso farla con FS Archiver tramite Ubuntu Live CD, posso farla tramite Self-Imaging direttamente da Proxmox, posso farla sotto Windows tramite anche il backup semplice di Windows, dopodiché bisogna lanciare alcuni comandi per fargliela vedere correttamente a Proxmox. Da VMware a KVM tramite VMware Converter, VMware ha un utilissimo programmino gratuito tra l'altro, che serve appunto per convertire le macchine fisiche in virtuale, in questi casi è veramente ottimo e utile. Tutte le soluzioni comunque per fare questa tipologia di passaggi sono sul forum, le trovate tutte sul manuale di Proxmox, sui forum, sui tutorial, ci sono anche video su come fare, c'è tutto praticamente sul sito di Proxmox. Posso anche comunque non solo passare da fisico a virtuale, posso anche passare da un altro virtualizzatore tipo vSphere di Microsoft da VMware da VirtualBox e l'immagine della macchina virtuale, dargliela in pasto a Proxmox ovviamente, non solo da fisico a virtuale. Supporto e licenza di Proxmox. Abbiamo già detto che Proxmox è open source, è completamente gratuito, quindi la versione praticamente è unica di Proxmox, diciamo che i titolari di Proxmox per riuscire a guadagnare qualcosina, come tanti altri hanno deciso di creare dei piani di abbonamento per l'assistenza, quindi si può acquistare un piano di abbonamento per avere anche la teleassistenza perché ti diano supporto direttamente loro di Proxmox, se hai delle cose che non ti funzionano, se hai dei dubbi, se hai qualsiasi cosa, ovviamente loro ti danno il supporto ovviamente a pagamento. Questo lo specifico perché Proxmox, ripeto, la versione è singola, però acquistando un abbonamento per l'assistenza ti danno anche un codice che inserito all'interno della versione unica di Proxmox permette a Proxmox durante gli aggiornamenti di collegarsi a un repository più stabile. perché se non metti il codice all'interno di Proxmox, il codice che dimostra praticamente che hai acquistato un abbonamento, lui funziona perfettamente lo stesso, non ha nessun tipo di problema, fa tutti gli aggiornamenti lo stesso, solo che li fa su una repository, su un server diciamo, loro dicono di test, in realtà funziona tutto perfettamente e fa gli aggiornamenti. Non è insomma l'altro server dove hanno gli aggiornamenti ultra collaudati che sono sicuri al mille per mille che non creino nessun problema. Non ho mai sentito nessuno che abbia problemi con la versione diciamo senza inserire il codice per capirsi. Per l'assistenza invece ovviamente sul sito Proxmox o c'è appunto l'assistenza a pagamento o se no c'è come tutti i vari servizi simili c'è il forum, c'è il wiki, c'è i manuali, c'è la documentazione online, ci sono migliaia di forum e di siti che parlano appunto di Proxmox e come funziona e cosa fare in caso di problemi. Inoltre la stessa Proxmox pubblica dei video di istruzioni su come fare le varie macchine virtuali, su come fare i cluster, su come fare qualsiasi funzione che c'è all'interno. Quindi se uno vuole basta un po' di tempo e si fa tutto. L'installazione di Proxmox, questa è una cosa veramente banale. Ricordo per l'ennesima volta che Proxmox non è un software a sé stante che installo sopra il sistema operativo. Proxmox, vado sul sito Proxmox, scarico la ISO di Proxmox e la installo come una normalissima distribuzione Linux, che in effetti è una distribuzione Linux, diciamo una distribuzione webian, quindi la installo come una normalissima distribuzione Linux. L'installazione è praticamente di una banalità disarmante, in tre step praticamente hai fatto tutto. Con la prima schermata durante l'installazione ti chiede la time zone, quindi dove ti trovi il fuso orario, che lo mette già al 99% dei casi, lo pubblica già in automatico, quindi non serve neanche fare niente. Si passa, si va avanti, ti chiede ovviamente una password di amministrazione per dopo entrare sulla parte amministrativa e amministrare Proxmox. Ultima schermata ti chiede l'indirizzo IP che vuoi dare al server e il nome che hai in rete, quindi l'host da inserire sulla macchina praticamente. Io questa sera su questa macchina qua che vedrete ovviamente ho inserito un IP della rete locale, normalmente in tutti i casi normali andremo inserito l'IP pubblico con un dominio corretto sopra. L'installazione in pochi minuti, devo dire in meno di 5 minuti, se ho una macchina media in 3-4 minuti praticamente la macchina è attiva, è semplicissimo. Quindi ho dedicato, volevo addirittura farla in tempo reale, ma è talmente banale che ho detto non ce n'è neanche bisogno. Una volta finita quindi l'installazione di Proxmox si ha accesso alla parte amministrativa inserendo l'IP che si ha impostato ovviamente prima durante l'installazione. Si deve inserire, si deve aggiungere alla fine la porta di default che è l'8006 e bisogna ricordarsi di mettere l'HTTPS perché durante l'installazione Proxmox crea in automatico un autocertificato SSL. Quindi se non mettiamo l'HTTPS non abbiamo accesso, c'è da proprio errore, sembra che il sistema non funzioni, in realtà funziona solo che è sull'HTTPS. Bene, a questo punto possiamo vedere live, la proviamo in tempo reale, la vediamo assieme. Hai un certificato valido? No, è autogenerato. Si può installare però all'interno dell'interfaccia di amministrazione, se uno acquista un certificato o ne prendi da qualche provider che adesso ci sono anche quelli che te lo danno gratuitamente, lo inserisci dentro e hai l'autocertificato valido. Si 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 si, lo metti dentro e funziona. Allora Vediamo se questa qua, 72 risponde. Si Se lo installi Proxmox non ha questo tipo di configurazione perché è pensato come bar metal, quindi se lo metti all'interno lo installi sull'interno di una... lo installi. Se lo lanci l'installazione della ISO su una macchina, lui rasa al suolo tutto, fa quello che vuole, distrugge tutto e mette tutti i dischi come vuole lui. Perché dopo vedremo che i dischi che vuole lui se li mette esattamente come vuole lui perché fa uno storage locale, uno storage locale in LVM utilizzando l'LVM di Linux, quindi fa lui quello che vuole. Quindi ci vuole una macchina dedicata per Proxmox, a tutti gli effetti. Qua ci chiede il nome utente password, ovviamente è già in italiano, quindi è già tradotto anche per l'italiano, oltre che ha un'altra miriade di lingue, quindi italiano semplicissimo. Si entra. Questo è quello che vi dicevo della sottoscrizione col codice. L'unica schermata che dà è questa, che dice che non ha... visto che abbiamo un codice valido, chiamiamo la licenza... E quindi ti dice, guarda che non hai un codice valido e basta, si dà ok e lui prosegue regolarmente e non ti chiede più niente. Funziona perfettamente lo stesso. Questa è in tempo reale la schermata di come si presenta l'amministrazione. Allora, è divisa in varie sezioni. Qua abbiamo praticamente, a sinistra, abbiamo tutto il data center, per capirsi. Adesso vediamo nello specifico. Qua sulla destra abbiamo le opzioni, le proprietà, tutte quante le tarature che possiamo fare su quello che seleziono a sinistra. Quindi, se seleziono un nodo, vedrò tutte le tarature e le opzioni del nodo. Se seleziono a sinistra, qua, tutto il data center, vedo tutte quante le opzioni, le tarature e tutte le configurazioni che posso fare su tutto il data center. Se seleziono uno storage, vedo tutto quello che posso fare sullo storage, ovviamente. Adesso vediamo nello specifico questa parte qua, perché è importante. Se clicco invece sui nodi o su una macchina virtuale, mi appare un altro menu qua, in alto a destra, che sono un po' le azioni che posso fare su quello che ho selezionato. Quindi posso avviare, spegnere, riavviare tutto il data center, riavviare tutte le macchine, migrare tutte le macchine, una serie di opzioni che magari adesso un po' con calma le vediamo. Questi sono i due tasti principali che abbiamo parlato prima. Quindi crea virtual machine, quindi col KVM crea una full virtualization, creando una macchina virtuale completa. Oppure crea un container con l'altro tasto. Quindi abbiamo le due possibilità di virtualizzazione. Nella parte sotto vedo praticamente i task, i processi che ho lanciato io, che sta eseguendo Proxmox, oppure posso vedere i log di sistema classici. Allora, vediamo sta parte qua. Tanto per capire. Questo, per capire un po' l'alberatura qua, è semplicissima, però magari una prima volta che la vede sembra, oddio, cos'è tutta sta roba. In teoria dovrebbe esserci solo le macchine virtuali, una lista di macchine virtuali, come mi propone per esempio tutti gli altri virtualizzatori, come fa VirtualBox per esempio. In questo caso, siccome lui fa anche molto altro, prima di tutto mi propone tutto il data center. Quindi se clicco qua, ovviamente tutta questa parte qua è riferita a tutto il data center. Quindi tutti i nodi fisici, tutte le macchine fisiche che ho in rete, in rete locale, in rete al di fuori, in internet, tutti gli storage che ho sia interni alle macchine, i dischi interni alle macchine, sia tutti i dischi che ho in rete sulle varie sedi che posso avere in giro per il mondo. Quindi come data center si intende tutta la mia struttura virtuale, completa. Quindi all'interno del data center ho tutti quanti i miei nodi. Questo qua è un nodo, per esempio si chiama test, non è altro che quella macchina virtuale che è là sopra, quella macchina fisica che è là sopra. Quindi questo è il primo nodo. Se avessi, come abbiamo detto prima, un altro nodo, un'altra macchina fisica al cui interno c'è Proxmox, per esempio a casa di Marco, qua vedrei un altro sotto a test. Vedrei un altro nodo, se ho 50 macchine fisiche in giro per il mondo, qua vedo 50 macchine, 50 nodi. Sotto dentro al data center vedo 50 nodi, che sono in realtà 50 macchine fisiche. Ovviamente che a sua volta ogni macchina fisica contiene le macchine virtuali e lo storage. Queste due macchine virtuali qua, 101 e 100, fate finta che non ci siano, l'ho create io per fare qualche prova. In realtà si presenta senza, quando installi ovviamente non ci sono macchine virtuali già create. Quindi questa è la macchina fisica. All'interno della macchina fisica ho tutte le mie macchine virtuali. Se avessi un altro nodo sarebbe a questo punto qua sotto, si chiamerebbe nodo di Marco e all'interno del nodo di Marco avrei... Esatto! All'interno di nodo di Marco ci sarebbe un'altra serie di macchine virtuali che sono in realtà a casa di Marco. Poi vediamo le macchine virtuali. Automaticamente, per riprendere il discorso della tua domanda, quando creo in automatico durante l'installazione Proxmox mappa due cartelle all'interno dell'installazione, all'interno di Debian in realtà, e li fa diventare due dischi. Li divide in due dischi che sono praticamente in questo caso già due storage separati, tanto per capirsi. Sono due storage locali, infatti sono all'interno dell'albero della macchina test, della macchina fisica test. Abbiamo già due dischi locali, ok? Due dischi locali. Al cui interno, per esempio, adesso vi spiego perché ne crea due. Al cui interno, per esempio, sul disco locale, appunto all'interno del nodo test. In questo caso ho già messo dentro, per esempio, un'immagine ISO di un Ubuntu, che dopo ovviamente se devo creare una macchina virtuale mi serve l'immagine ISO per lanciare l'installazione della macchina. Ovviamente devo, siccome stiamo lavorando in teoria online via internet, devo prendere l'immagine della macchina che voglio installare e fare l'upload all'interno di Proxmox, renderlo disponibile l'immagine per installarla su qualche macchina. In automatico, lui mi la mette all'interno del local storage, quindi del disco locale della macchina virtuale. Come si può, vanno a finire qua dentro anche tutte quante i template, i template sono le macchine, diciamo, il template è la, come posso spiegarla? La configurazione è già la, come voglio, il container, quindi la ISO mi serve per installare le macchine complete virtuali. Questi qua invece sono i template che posso o scaricarli, che da qua ho tutti quanti già i template già pronti, direttamente li scarico dai server di Proxmox, mi scarico, che ne so, una 106, scarica, lancio il container, gli do in pasto già il template della 106, tac, in tre secondi e la macchina è pronta. Fine. Comunque adesso facciamo anche una prova. Perché Proxmox divide lo storage locale in questo caso, perché stiamo parlando di locale all'interno del nodo test, anche con questo, perché con l'altro abbiamo il supporto del gestore dischi di LVM, di Linux. Quindi all'interno, lui, di questo disco, va a mettere i dischi delle macchine virtuali. Vediamo i fatti, abbiamo già, ho già creato per fargli vedere due macchine virtuali. Quella con l'indice 101 è una Fedora e l'ID100 è un Ubuntu 16.04 server. Se vedete all'interno qua dello storage locale col supporto LVM, quindi qua, il disco della macchina virtuale della 100, quindi stiamo parlando dell'Ubuntu, è un disco di 15 giga, mentre l'altro disco, il 101, è della macchina 101, con Fedora dentro. Questi me li ha messi col supporto LVM, dentro qua, a posto, li separa da tutto il resto di file, perché appunto mi permette di fare gli snapshot utilizzando il supporto di LVM, che è una cosa utilissima, praticamente. Prima di vedere un po' tutti quante le varie proprietà delle varie macchine, dei nodi e quant'altro, magari possiamo provare a creare una macchina virtuale, tanto per vedere come funziona. Dobbiamo ricordarci che prima di creare la macchina virtuale, devo fare l'upload, ovviamente, all'interno dello storage della ISO della macchina che voglio installare. Ad esempio, se adesso decido di installare, che ne so, Linux Mint, mi faccio una macchina virtuale con Linux Mint, devo scaricarmi l'immagine di Linux Mint e andare sullo storage locale della macchina, faccio carica, gli dico che è una macchina ISO, scelgo il file, quello che ho scaricato, dell'immagine ISO, faccio l'upload, glielo butto su e lui me lo rende disponibile non solo per questa macchina, ma per tutte le macchine del mio data center. Ok, non solo per questa macchina, esatto, perché quando io andrò a scegliere, adesso lo vediamo, facciamo prima vederlo. Allora, proviamo a creare una macchina virtuale, si crea su CreaVM, ovviamente, questa è semplicissima, è una procedura guidata, un po' come tutti gli altri, praticamente. Allora, CreaMacchinaVirtuale. Prima di tutto mi chiede il nodo dove voglio pubblicare questa macchina virtuale, perché ovviamente non è detto che io sono collegato a questa macchina qua, questo server qua che abbiamo dietro le spalle, però non è detto che io voglio creare la macchina all'interno di questa macchina qua, voglio creare la macchina, per esempio, a casa di Marco, perché abbiamo l'altro nodo a casa di Marco, Marco contentissimo, pieno di macchine stasera, virtuali, che poi non ha che venderle. Quindi, in questo caso, abbiamo ovviamente un nodo solo configurato stasera, perché sennò bisognava avere più macchine, era un po' problematico, magari in una serata futura vedremo di fare delle cose un po' più complesse. Quindi, se scelgo un nodo, ho a disposizione solo un nodo test, solo la macchina fisica test per creare una macchina virtuale dentro. Quindi scelgo test, mi chiede l'ID della macchina, perché in automatico lui dà un ID progressivo, vedete che ha 100, 101, adesso lui mi crea in automatico il 102, se mi va bene, mi va bene, se no metto un numero che mi fa piacere, insomma. Do un nome alla macchina, ho l'immagine di Ubuntu dentro, quindi Ubuntu server 16.04, intanto diamo un nome a caso. Pool di risorse. Questo non è obbligatorio, ovviamente si tralascia nel 99% di casi, intanto per informazione personale, io posso dire che questa macchina virtuale che sto creando fa parte di un pool di risorse, per esempio degli amministratori e non dei tecnici o dei collaboratori. quindi tutto il gruppo di persone che fa parte dell'amministrazione avrà accesso a questa macchina con le proprie credenziali, con le proprie autorizzazioni, con le proprie policy. Quindi posso dire che questa macchina fa parte di un certo gruppo di policy per gli utenti, di privilegi riguardo i permessi. Esatto. All'interno di Proxmox, dopo li vediamo, possiamo creare gruppi, utenti che possono fare questo, possono fare quello, possono vedere o no certi nodi, venire o no certe macchine, vedere o no certi storage, fare questo, fare quello. Posso dire che un certo gruppo, un certo pool di risorse, questa macchina è destinata al gruppo dell'amministrazione del cliente di Totditter, per esempio. Si doperà veramente poco in realtà queste cose qua. Comunque se serve Proxmox lo fa. Si passa avanti, ovviamente creazione guidata si va sempre avanti, qua scelgo il sistema operativo che voglio installare. Posso decidere di usare il drive fisico, quindi il CD-ROM fisico della macchina fisica. Se ce l'ho a disposizione che è vicina, posso mettere il CD della ISO all'interno là e lancio il drive fisico. Oppure, come si fa solitamente, gli do in pasto una ISO scaricata che abbiamo caricato prima sullo storage. anche qua adesso mi chiede, dove si trova, qual è lo storage dove hai caricato la ISO? Perché potrei averla su questo storage locale, ma potrei averla su uno, sullo storage, esatto, di Marco. Oppure potrei averla su una Sun, su una mega azienda, potrei averla su un NAS di casa. Quindi qua decido dove la trovo questa immagine. In questo caso abbiamo solo lo storage locale fisico all'interno della macchina, quindi gli do solo questo. Lui mi propone già allora tutte le ISO che trovo all'interno. In questo caso abbiamo la Ubuntu 16.04 server. Ovviamente si sceglie il sistema operativo, ma in automatico in questo caso è già Linux. Si va avanti, prossimo. Si sceglie il disco fisso. L'hard disk è praticamente virtuale della macchina. La prima voce sono praticamente i driver del bus dell'hard disk. Posso scegliere tra ID, SATA, Virta IO e SCASI. Qua si utilizza sempre, quasi nel 99% dei casi, Virta IO perché in questo caso hanno dei driver nativi all'interno che sono 100 volte più veloce la macchina rispetto a... 100 volte no, però molto molto più veloce la macchina dopo il lettura e scrittura, quindi la vedi molto più prestante come velocità. Quindi si sceglie sempre e mediamente Virta IO. Anche qua sto creando il disco della macchina virtuale. Mi chiede su che storage lo vuoi mettere? Il disco della macchina virtuale che stai creando sul nodo test. La macchina virtuale la sto creando qua, ma il disco della macchina virtuale lo voglio mettere a casa di Marco. Poi mettiamo l'IP della casa di Marco. Ok, quindi se avessi più nodi, in questo caso se avessi più nodi potrei decidere no, non lo voglio sullo storage locale del nodo test, ma lo voglio sullo storage locale di un'altra macchina oppure lo voglio su un NAS. Beh, su un NAS è un po' stupido farlo perché il NAS sarebbe molto lento avere il disco fisico della macchina, quindi ci vuole una cosa, una sun in fibra proprio in locale, se no si utilizza lo storage locale. Ovviamente una volta scelto lo storage, che in questo caso ne abbiamo uno perché la macchina è una, decido quanti giga dedicare al disco. in questo caso gli diamo, boh, gli diamo 15 giga, la cache di lettura e scrittura sul disco, posso lasciare in predefinito, dipende molto dall'hardware della macchina fisica, se ho una scheda, un controller dei dischi, un controller dei dischi che ha già la sua cache, diventa una cosa un po', bisogna un po' saperla bene questa cosa della cache. Lascio predefinito e va benissimo. Semplicissimo, scelgo CPU, quanti socket e quanti core della CPU, banalissimo, vado avanti, scelgo quanta memoria RAM dedicare, in questo caso propone 5,12, gli voglio dare, che ne so, un giga di RAM, ovviamente do quanto voglio, quella che ho a disposizione. Step successivo, in automatico mi già prepara, già pronta, già i driver virtuali opera, la para virtualizzazione per le schede di rete, già il nome della scheda di rete è già a posto, praticamente basta andare avanti. Ho un riepilogo di quello che ho fatto, come si chiama la macchina, su che nodo la vado a fare, quello che abbiamo scelto finora, finito. Lui in automatico, ecco qua, è partito il task. Un secondo. Eh, l'ha già fatta praticamente. Già fatta. È apparsa la macchina virtuale 102 all'interno del nodo test e si chiama Ubuntu Server. Quindi qua abbiamo creato l'hardware, in realtà, macchina virtuale, l'hardware della macchina virtuale. A questo punto, o tasto destro, gli do avvia la macchina virtuale, posso farlo dal tasto destro, o sopra dal menu in alto, avvia, e lui in automatico, ormai non vedo qua. Va bene, ho cambiato qualcosa. Già avviata. Velocissimo stasera in maniera pazzesca. Allora, questa macchina qua è partita. La posso vedere dalla console. Selezionando la macchina virtuale è già avviata. Vedete che è già diventata, non è più in grigetto o fuscato, ma è diventata nero pieno con la freccia verde. Vuol dire che la macchina è avviata. Vedo la console, per esempio. E qua lui mi ha fatto partire l'immagine che abbiamo dato in pasto prima. Ovviamente, quindi questa qua è una normale installazione di Ubuntu. Scelgo la lingua, passo avanti, vado avanti, e finisco l'installazione a una normalissima macchina virtuale con Ubuntu server all'interno. Qua finisco l'installazione, dopodiché mi connetto alla macchina virtuale come voglio, in SSH, con l'interfaccia grafica, come una qualsiasi macchina, come se fosse una macchina fisica, a tutti gli effetti. Vantaggi della virtualizzazione. Se invece, questa non la finiamo perché è inutile andare a finire l'installazione di Ubuntu server, non è questo il caso di procedere, non era questo lo scopo della serata. Facciamo, spegniamo la macchina, per esempio, spegno la macchina 102, sì, spegniamo. Lui la spegne. Possiamo, per esempio, adesso, facciamo l'altra prova, creiamo un container, così vediamo anche questo come funziona. Anche qua c'è una procedura guidata, leggermente diversa. Scelgo anche qua il nodo di dove mettere il container. Anche qua scelgo l'ID del container. Il container è solo DOF, DOC, DOC, DOC. Ehm... Queste qua sono... Tipo, tipo? Ah, sicuramente, no? Sono immagini docker? No, i container sono le immagini scaricabili da docker hub? Sì, non è... Eh, ma se... Il sistema operativo, il CPU di punto, sarà quello che è presente nel docker hub? Cioè, non è la stessa... Eh, in modo, sì, è... Non c'è la stessa computer, ma quindi ora è un po' a parte... Questo qua lo chiamano probabilmente... È chiamato nello stesso modo. Però il container è in realtà a tutti gli effetti un'installazione linux di sana pianta. Qua abbiamo un'installazione linux completa di tutto il linux che vogliamo. Soprattutto se ci dobbiamo installare docker sopra, ci installiamo docker sopra. No, no, per... Adesso il docker lo conosco pochissimo, quindi... Il gestore di container... Sì, sì. L'applicazione che ha... Sì, sì. Sì, esatto. Ok. Qua ovviamente diamo il nome della macchina del container, in questo caso test. Sarà... Adesso non mi ricordo che tipo di template ho già messo dentro. Anche qua posso dare il pool di risorse. In questo caso scelgo la password di amministrazione perché sto creando una macchina già pronta. Che ne so, diamo admin. Admin. Ovviamente solo con... Questo creo solo container con tutte le evoluzioni di linux possibili immaginabili. Non solo, diciamo, con... Che versione voglio io di linux? Io posso prepararmi già un container, già con la roba dentro. Sì, io nei vari nodi ho sempre bisogno della stessa macchina di una fedora con già all'interno LibreOffice, già Gimp e già un sacco di programmi già fatti. Mi creo il mio template della macchina già pronta, qua me la trovo già e ho già la macchina preconfigurata. Adesso vedete i tempi per fare la macchina. Posso fare l'upload e caricare già una chiave SSH se ne ho bisogno, se voglio farlo. Se no entro normalmente con la password. Qua scelgo il template. Come è fatta la macchina, come abbiamo detto. Scelgo dove è il template. Lui ovviamente mi trova tutti i template che ho già messo all'interno dello storage local, come abbiamo visto prima per le macchine full virtualization. Qua posso decidere, ne ho messe dentro tre, per esempio carichiamo una 106.7. Andiamo avanti. Lo storage anche qua, il disco locale. Cioè, tu scarichi un container, da un evico di container, di proprio sponsor? Lo puoi avere tutte le possibilità del mondo. Puoi creartelo da solo il container? Un'immagine in isola. Un po' tutto quanto. Ci sono dei programmi apposta per farli. Oppure ci sono un milione di siti per scaricarle già pronte. Voglio già una container già fatto per Mint già con questo. Come su Docker trovi il contenitore? Cioè, sì, sì, non chiaro. O semplicemente da, l'abbiamo visto prima molto velocemente, da dentro qua l'amministrazione, da dentro l'amministrazione dello storage locale, ho già disponibili da scaricare, già tutte una serie di tutte le distribuzioni Linux, per esempio, già pronte, belle e fatte. Scelgo anche qua la dimensione del disco da dare a questo container. Vediamo anche qua 10 giga per fare una prova. Un core va benissimo. A memoria per fare una prova lasciamo 5,12. Anche qua da rete posso dare un IP statico, DHCP. Ovviamente qua, essendo un container, me lo chiede adesso, mentre prima, avendo la macchina virtuale, tutte queste opzioni qua ce le avevo durante l'installazione del sistema operativo. Qua invece, siccome il sistema operativo me lo trovo già installato, lo scelgo prima che IP dare alla macchina. Se voglio collegarmi di DHCP o con IP statico, per esempio, o un IP che scelgo. Ovviamente posso scegliere anche i DNS. Se scelgo un IP gli do anche i suoi DNS. Riepilogo del container, finito. Lui comincia a parte il task, crea il container. Task ok, finito. Abbiamo la 103, gli diamo play. Ah, c'è l'icona doveva essere, adesso ho visto il container e le macchine. Esatto, i containers hanno l'iconetta tipo scatola, e mentre le virtual machine complete hanno invece il monitor come iconetta. Un po' come dei Mac, però va bene. La macchina, in 4-5 secondi, abbiamo creato un'installazione Linux di Sanapianta. Adesso non so che template gli ho passato. Comunque andiamo a vederla sulla console. Eccola qua. Centus, Linux 7, kernel 4.15.17. Gli ho scaricato probabilmente una versione abbastanza recente, senza interfaccia grafica, probabilmente. senza interfaccia grafica. Qua... Niente, abbiamo creato anche un... Potrebbe averla. Potrebbe averla ovviamente, certamente. Tutto quello che vogliamo. Come container sotto Linux. Qualsiasi cosa. Allora, andiamo a vedere un po' che possibilità abbiamo... Anche perché sennò non facciamo più a tempo. Abbiamo visto come si creano le virtual machine e i container. Andiamo a vedere le varie proprietà della nostra struttura, del nostro data center. Data center, cosa posso vedere? Innanzitutto posso cercare all'interno di tutto il data center una macchina, perché potrei averne migliaia. Quindi questa lista qua, tra tutti i nodi, tra tutte le macchine virtuali, tra tutti gli storage che posso avere, potrebbe essere una lista veramente infinita. Quindi ho a disposizione una ricerca per trovare quello che mi interessa. Perché stiamo cercando, ovviamente, su tutto il data center. Ok? Sommario, ho un minimo di statistiche. Lo stato del data center mi dà che è integro perfetto. Quanti nodi ho online? Quanti offline? Sono tutti quanti online, anche perché ne abbiamo uno solo. Vedo quante macchine virtuali. In esecuzione ne abbiamo zero. Infatti le macchine virtuali sono una e una due. Eccole qua. Fermate due. Vedete, sono ferme, non sono avviate. In esecuzione zero. Mentre i container ne abbiamo uno in esecuzione e uno fermato. Infatti, il container, eccoli qua. Abbiamo una macchina con CentOS, a cui abbiamo dato il nome sbagliato, abbiamo scritto test, va bene. Una è avviata e una è fermata. Vediamo un po' l'epilogo della CPU utilizzata, della memoria, dello storage. I vari consumi dei vari nodi. Abbiamo un sommario, insomma un report visivo di quello che sta succedendo all'interno del data center. Qua abbiamo la possibilità di creare i cluster, come abbiamo visto prima. Quindi possiamo creare su più nodi, più macchine che danno un servizio di alta affidabilità. Possiamo, il discorso che abbiamo fatto prima praticamente. Creiamo un cluster classico, insomma, come un normalissimo cluster. Qua abbiamo varie opzioni riguardanti il data center. Quindi la tastiera che voglio utilizzare per amministrare italiano, se vuoi utilizzare proxy, cose molto banali. Qua abbiamo gli storage del data center. Quindi lui vede che già all'interno del data center abbiamo uno storage locale, all'interno in realtà del nodo test. Me li propone già, quindi vedo che ho già uno storage locale su cui vanno dentro i backup, le immagini ISO, i template. Mentre sull'altro storage local LVM, che praticamente è questo, sempre all'interno del nodo test, vanno dentro le immagini dei dischi e i container. Appunto perché dopo vedremo possiamo fare gli snapshot. Come tipi di storage, se facciamo aggiungi, lui può aggiungere, esatto, può aggiungere una cartella, un altro LVM, un LVMeting, un FS, CIFS, cluster GF, iSCSI, rdb esterna, rdb pve, tutti i protocolli, praticamente tutti quelli gestiti da Linux diciamo come protocolli di rete. A questo punto non faccio altro, per esempio, che io di solito utilizzo NFS, Network File System, praticamente gli dai un ID, gli dai l'indirizzo IP della posizione esatta di dove si trova la cartella o il disco in rete e lui te lo mappa, te lo mette all'interno del tuo data center e scelgo già a priori cosa ci voglio mettere dentro su questo storage di rete. Se lo voglio utilizzare solo per le immagini disco, solo per le immagini ISO, solo per i template, solo per i backup, solo per i container, oppure faccio selezione multipla, adopero per quello che voglio. Questo storage qua che tu vuoi configurare, poi viene condiviso tra tutti i nodi dei casi. Esatto. A meno che non faccio delle policy sugli utenti che certi utenti non possono vedere questo storage. Sempre con la logica del Google. E anche per una semplice logica, dopo la gestione dei permessi degli utenti e dei gruppi, posso anche decidere che questo storage qua, per esempio, è su un mio NAS di casa all'interno del QNAP. Lo voglio vedere solo io, gli altri non lo vedono. Ok. Quindi qua aggiungo ulteriori storage, risorse, storage, dischi, memorie, praticamente. Backup. Qua faccio veramente un po' tutto per quanto riguarda i backup. Scusa. Questa è una... L'indirizzo di reti che è praticamente il indirizzo, è l'indirizzo di IP, l'appunto, la macchina... Se te, per esempio, hai una cartella condivisa in rete, gli darai l'indirizzo di rete della macchina. Se hai una cartella pubblica, gli dai indirizzo IP giusto, la condivisione è praticamente l'indirizzo IP con il nome della cartella. Dipende com'è condivisa. Se sono le macchine con una risca, con un po' di tutta la propria parte, vi devo darvelo. Esatto. Non vedo che dall'altra parte, se si è anche stranato, non è sempre... No, dall'altra parte, praticamente, puoi fare quello che vuoi. Puoi anche, in questo momento, creare una cartella NFS all'interno della tua macchina. Mi dai l'indirizzo esatto di dove si trova, la inserisci qua, lui mappa la cartella e vede la tua cartella come uno storage di rete. Quindi, a quel punto, io posso prendere e decido di fare il backup all'interno della cartella dentro il tuo computer. All'interno del tuo computer non è necessario avere ProSmokes. Basta che ti crei una cartella condivisa in tutti i formati disponibili. In realtà molto di più, perché dopo vediamo, magari dopo, sulle varie, è una cosa abbastanza... Avanzata... Cioè, i dischi fisici collegati a quel sistema, tipo a NLVM, è distribuito? Posso farlo? O un avanti? Sì, 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 sì. Quindi, questa è l'ottica di sfruttare i dischi delle stesse virtualizzazioni, per non fare la data storage, senza l'arra, non finanzare... Eh, quello l'abbiamo già fatto, sono questi. Sì, abbiamo già sfruttato i dischi fisici, sono i local storage. Che non sono però condivisi tra i nodi? Sì, sono già condivisi tra i nodi. Infatti, quando abbiamo creato la macchina, se ti ricordi, lui mi ha chiesto su che storage vuoi andarlo a mettere, la macchina. Quindi, queste qua, in realtà, sono storage locali, vengono chiamate appunto locali, perché sono locali all'interno della macchina, del nodo... La macchina fisica, in realtà, di quella macchina là, il disco è stato partizionato, messo con l'LVM, e li vedo qua come storage locali. Sono locali, perché sono locali rispetto alla macchina fisica, che si chiama test. Però questi storage qua, li vedo, se crea altri nodi. Cioè, un test 2, comunque, accedere a te... Esatto. Quei dati, perché il test sia i piedi, diciamo... Esatto, esatto. Beh, ovviamente, per esempio, è impossibile fisicamente. Esatto. Sì, sì, esatto, sì, no, però, tipo, col group, col cluster, si può fare, tipo, replicare su più nodi, fai il system in modo da... Qua c'è ancora una cosa... ...donnazza. Ovviamente sì, Proxmox gestisce anche i cep, che dopo non li vediamo, perché è una cosa molto complessa, addirittura può fare uno storage condiviso nella rete, pezzi dappertutto condiviso nella rete, un cluster di storage suddiviso, robe che bisogna fare delle serate solo per che la funzionerà. Comunque diciamo che fa tutto. Fa tutto. Eravamo rimasti a... Scusate, ai backup. Quindi, aggiungi backup. Voglio fare un backup di una o più macchine virtuali. Vi ricordo che siamo dentro Data Center come visualizzazione. Quindi, voglio vedere innanzitutto che macchine, quelle che sono all'interno del nodo test. In questo caso è selezionato tutti e vedo tutti, perché abbiamo solo questa purtroppo stasera come macchina. Quindi, vediamo che all'interno del nodo test abbiamo queste macchine, di cui abbiamo quella con CentOS 7, che è in eseguzione. Ubuntu è fermato, Fedora è fermato, Ubuntu 16.04 è fermato. Sono le quattro macchine qua. Decidiamo che vogliamo fare, per esempio, un backup. Vediamo un attimo cosa possiamo fare. Voglio fare, per esempio, il lunedì, il mercoledì e il sabato, esempio, alle 10, alle 10 di mattina. Voglio fare i backup della macchina con Ubuntu e la macchina Fedora. Gli dico di mandarmi una mail, se mi fa piacere, se non lascio stare. Gli dico di mandarmi una mail alla mail personale. Ho scritto a caso. Quando è che mi deve mandare la mail? Sempre, quindi alla fine di ogni backup, lui mi manda una mail dicendo guarda che ti ho fatto il backup, tutto ok, tutto perfetto, il backup è andato a buon fine. Me lo manda praticamente a questo punto tutti i sabato, tutti i lunedì e tutti i mercoledì. Oppure posso decidere. Mi mandi email solo quando c'è un errore. Non mi interessa che mi spedisci tutti i backup le mail. Solo quando c'è qualcosa che non va, mi avvisi, guarda che c'è qualcosa che non quadra. Qua posso scegliere la compressione, perché ricordiamo, prima abbiamo detto che il backup lo fa, crea un file unico, compresso. Scelgo il tipo di compressione, se scelgo LZO lo fa velocemente. Il GZIP è leggermente più lento da fare, mediamente si lascia LZO. Il modo con cui fare il backup. Posso scegliere snapshot, suspend o stop brutale. Cosa significa? Se io devo fare, ad esempio, il backup, come stiamo facendo, di due macchine, queste due macchine qua. Mettiamo che queste due macchine qua sono gigantesche, hanno dei dischi da 200-300 giga all'uno, perché sono pieni di dati, sono pieni di film, sono pieni di dati degli utenti, sono gigantesche. Da quando parte il backup a quando finisce il backup, se le macchine sono gigantesche, per esempio dove salvo il backup, la risorsa è un po' lenta, potrebbe passare diverso tempo. Nel frattempo che faccio il backup, i dati all'interno della macchina, perché ci sono utenti connessi alla macchina, potrebbero cambiare, quindi mi trovo che ho un backup che non è più coerente con la mia macchina. Se per esempio all'interno della macchina ho un database con un sacco di utenti che ci scrivono dentro, io ho un backup che in realtà non corrisponde alla realtà, perché da quando ho lanciato il backup è passata un'ora, nel frattempo in un'ora gli utenti hanno già cambiato 100.000 record sul database, per esempio. Quindi posso scegliere in che modalità risolvere il problema. Posso dire modalità snapshot, cosa fa? Lui parte prima di fare il backup, fa uno snapshot del sistema, quindi crea la fotografia, un'immagine dello stato del sistema, dopodiché parte col backup, ci mette quello che ci mette a noi non ce ne frega, ha finito di fare il backup, ripristina lo snapshot, quindi ho l'immagine coerente e perfetta. Ok. Sni. Ok. Proviamo a rivederla. No, la macchina è in uso e sta funzionando, nessun disservizio, la macchina sta funzionando, se scelgo la modalità snapshot. Se il pistino ha ripristino sul backup, no, fa ripristino sul backup però, perché noi stiamo parlando del backup? Rivediamola sta cosa. Allora, sto facendo un backup di una macchina che è gigantesca e quindi salvarla sul NAS di rete di casa, per esempio, perché la sto salvando via internet, ci mette tre ore. Nelle tre ore il mio backup non è più coerente con la mia macchina, perché nel frattempo la macchina, gli utenti che ci lavorano dentro è cambiata. Se voglio mantenere quindi che sia integra, devo prima fare uno snapshot, una fotografia, una istantanea di come si trova il sistema. Ok? Quindi, lo snapshot vuol dire faccio una fotografia proprio dello stato del sistema adesso. Ci mette un secondo a fare lo snapshot. Quindi non è che salva tutto il disco per fare lo snapshot, ci salva solo le modifiche e altre cose, non stiamo qua a spiegare un dettaglio. Quindi, prima di cominciare a fare il backup, lui si crea un'immagine dello stato di fatto adesso del sistema, della macchina che voglio salvare. Parte, fa il backup, ci mette quattro ore, due ore, quello che è. Quando ho finito di fare il backup, quel backup che avrò non è più, perché è passato tanto tempo, non è più coerente con la macchina reale che avevo prima. Ripristina lui in automatico lo snapshot e quindi ritorna allo stato dello snapshot di prima. quindi la fotografia della macchina virtuale è esattamente come quando io ho cliccato ipoteticamente file backup. Perché in realtà non è passato tempo per la stesura, effettivamente per la copia, per la montare... Salva solo l'istantanea. Salva l'istantanea dello stato del sistema. E se ne frega delle modifiche che fanno... se ne frega delle modifiche che fanno... Ripristina è il senso che cancella la snapshot. Non ripristina. Ripristina, se sembrerebbe che ripristina lo stato precedente, invece no, cancella la snapshot. Per lui fa la snapshot, fa il backup della snapshot... No. E poi cancella la snapshot. Sono due cose diverse. Lo snapshot è una cosa e il backup un'altra. Il snapshot è la differenza. Esatto. che interviene per quando vuoi partire il backup è quando lo completi. Poi lui lo ripristina nel senso che riporta nell'immagine lo stato completo. Esatto. Sono due cose separate. Backup, backup completo della macchina. Salva tutti i file, tutto il disco, tutte le configurazioni, tutta la macchina. Lo snapshot è solo le differenze come spiegava lui, solo la fotografia l'istantanea del sistema e delle modifiche che posso andare a fare praticamente, successive. Quindi no. È coerente è coerente al momento in cui ho fatto lo snapshot. Quindi in realtà lancio lo snapshot e il backup subito con lo snapshot allegato assieme praticamente. Adesso alle 22.45 voglio il backup delle 22.45 il backup fa prima lo snapshot 22.45 Fra 4 ore ipoteticamente abbiamo finito di fare il backup prima di salvarlo lui ripristina sopra il backup e lo mette sopra perché sono due cose separate ripristina lo snapshot e abbiamo lo snapshot e abbiamo lo snapshot delle 22.45 quindi la macchina è esattamente come era le 22.45 e elimina le modifiche che si fa esatto esatto praticamente sì questo serve perché utilizzando questa modalità qua snapshot se la macchina è attiva e serve che sia online 24 ore su 24 la macchina non si ferma non abbiamo avuto di servizi finché il sistema faceva il backup perché se no per fare un backup coerente dovremmo dire ok fermo la macchina stop brutale finché fai il backup allora sì gli utenti entrano non fanno nessuna modifica e quando ho finito il backup il backup è perfetto giustamente ma siccome potrei dire no la macchina deve essere online 24 ore su 24 non posso dare di servizi a nessuno perché serve fa serve di posta serve fa qualsiasi cosa che non può essere fermata scelgo snapshot quindi ho risolto il problema di backup con la macchina perfettamente online se no posso dire me la sospendi o me la spegni se non me ne frega niente per esempio se una macchina mia di casa ho dentro solo i film che mi riguardano sulla televisione anche se me la spegni alle 3 di notte chi se ne frega dipende appunto dall'utilizzo che andiamo a fare se sospendi fa il backup anche della modura quindi la macchina non c'è la differenza sì se fa sospendi fa il backup di tutto se non è proprio in maniera completa eh sì eh sì fa completamente anche se facciamo lo snapshot fa la ram e tutto anche con lo snapshot anche con lo snapshot sì perché fa una fotografia proprio stato di fatto al centesimo di secondo quello che stai facendo con la LVM esatto sì 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 in teoria viene spiegata se non sbaglio io perché può essere che però teoria è fatta apposta per avere appunto il backup coerente da verificare quindi ho fatto il backup ho deciso che al sabato lunedì e mercoledì faccio questo backup della macchina 100 della macchina 101 crea e in automatico ho già attivo e funzionante il job dei backup che comunque non è unico perché a questo punto ne faccio un altro gli dico che che ne so abbiamo fatto il martedì voglio fare il martedì e il giovedì faccio del 102 della 103 per esempio a mezzanotte crea e che ne so e dopo gli dico che invece la domenica mi fai tutte le macchine il backup per esempio e invece di mettermi sullo storage locale me li metti sul NAS di casa oppure su un altro storage che ho in rete oppure su un altro nodo potrebbe essere in questo modo ho fatto di creare tutti i task dei backup stiamo andando oltre i tempi replicazione semplicissima lui prende una macchina adesso non possiamo farlo perché c'è un nodo solo prendo una macchina e la replica su un altro nodo decido io quanto frequentemente quante volte mi fa la replica della macchina virtuale mi fa sempre una replica per esempio tutti i giorni mi fa la replica sul nodo a casa di Marco qua abbiamo tutta la gestione dei permessi come abbiamo detto prima utenti gruppi permessi per i nodi permessi per le macchine virtuali permessi per gli storage posso fare una serie di policy infinite qua abbiamo l'alta affidabilità quella che dicevamo prima possiamo configurare che se abbiamo un cluster di macchine una muore perché una è master una slave oppure una muore comunque parte in automatico l'altra in automatico senza dirmi niente e senza disservizi istantaneamente una cede parte l'altra quindi possono essere due tre quattro cinque questa è l'alta affidabilità no no è fatto apposta esatto perché io il secondo nodo che è connesso sempre al mio data center per esempio ce l'ho in Germania ce l'ho in America c'è della macchina in America mi parte quella in Francia qua e qua sono già replicati perché stiamo parlando di alta affidabilità non è che mi faccia la replica prima faceva la replica qua invece abbiamo già due macchine già pronte una è già pronta per essere avviata in caso di malfunzionamento dell'altra se l'altra si spegne gli tolgono la corrente o si rompe semplicemente la macchina fisica che la gestisce la macchina virtuale in automatico lui vede il sistema vede che manca e fa partire ma come gestisci tu qui ma non so se le vuole eh ci sono esatto ci sono un sacco anche di software di programmi aggiuntivi di utility per gestire gli indirizzi dipende anche dal servizio che devi erogare dopo eh perché non è detto che ti serva comunque è fattibile diciamo scusa ma non ho sentito perché se la musica è un'altra cosa è un'altra cosa è un'altra cosa è che la casa funziona in un modo esistimamente ma se il nodo principale accade il secondo nodo premio è un'altra cosa è un'altra cosa è un'altra cosa una volta che il primo nodo riparte ovviamente continua con la macchina da nessun secondo nodo non è che è un'altra cosa che è stata super creativa e il master continua a essere il primo non il secondo quindi il secondo continua a essere svegliata e la replicazione non funziona perché continua a cercare di replicare il master verso svegliata io sinceramente non l'ho provata quindi non ti so dare una risposta certa era una versione vecchia però era una versione quanto tempo fa? cioè allevare il master e lo vedo sì perché la casa si basa sulle replicazioni cioè o una memoria esterna però diventa un NAS diventa un pubblico ma sempre si fa sulle replicazioni il master replica lo suo slate e tutto bene quando lo slate parte il master è morto rip ripita dopo poi viene un documentatore eccetera e continua a replicare sui sull'lux perché sa le replicazioni scrittate invece se io sono morto e lo sono ricapito dovrei dire ok basta quindi applicazioni sono segnati i record musica tutto l'altro sono anche un problema di se caldo per esempio il lick non fa il nostro se è lui che è anche tutto è la sessera di votazione quindi è veramente dei nodi dei nodi anche quando uno si rende conto di lui in razza perché a me si ha un ufficiale e si rende un incontro sinceramente non l'ho provato quindi non so darti in realtà una risposta certa sulla cosa un attimo a vedere ovviamente posso gestire il firewall del tutto del data center mentre su supporto niente potrei se inserisco il codice di Proxmox quello che dicevamo prima che ti danno in caso che compri l'abbonamento qua vedi insomma il piano di supporto se invece vediamo a questo punto molto velocemente le opzioni del nodo anche qua ho la ricerca del nodo perché all'interno della macchina fisica potrei avere un tot di macchine virtuali quindi posso cercare la macchina virtuale anche qua vedo come è messo fisicamente tutto il nodo carico della CPU utilizzo della RAM contanto di grafici della CPU carico del server utilizzo della memoria traffico di rete sia in ingresso sia in uscita del nodo ok qua posso direttamente accedere alla shell della macchina fisica del nodo ok normalissimo qua vedo tutto quanto un insieme di sistemi di configurazioni di rete certificati di DNS dell'ora una cosa abbastanza semplice qua vedo gli aggiornamenti gli aggiornamenti fisici della macchina posso gestire anche qua il firewall relativo a questo nodo posso gestire vedo lo stato dei dischi dei dischi fisici del nodo quindi molto interessante mi da subito uno stato visivo dello stato dello smart dicendo smart della disc quindi vedo che è passato comunque posso anche fisicamente vedere i dati smart del disco per vedere se ci sono errori scrittura letture se il disco è sano questo è quello che dicevamo prima che ovviamente non lo possiamo vedere che si può creare se si può creare uno storage condiviso in rete un cluster di storage ovviamente non lo possiamo vedere adesso possiamo gestire la replicazione su un altro nodo del nodo no delle macchine all'interno del nodo scusate qua vedo semplicemente la cronologia dei task che sono gli stessi che vedo sotto sotto scrizione posso inserire la chiave che prima parlavamo se acquisti il codice di da Proxmox direttamente macchina virtuale più o meno non abbiamo più tempo immagino giusto ok macchina virtuale più o meno sono le stesse cose le differenze sostanziali abbiamo come backup della macchina virtuale abbiamo l'opzione fai backup subito immediatamente come tasto creo il backup immediato oppure discorso di prima creo lo snapshot immediato quindi adesso io devo installare un programma fare qualcosa degli aggiornamenti che potrebbero essere a rischio non voglio essere sicuro che in caso posso sempre tornare indietro al minuto prima mi faccio della 103 fai uno snapshot subito gli do il nome che ne so prima aggiornamenti ok descrizione fatto il in data adesso fai snapshot fatto abbiamo un'immagine fatta in tempo reale della macchina 103 adesso io faccio tutte le modifiche del mondo alla macchina 103 la distruggo spacco tutto vado qua seleziono lo snapshot lo ripristino e la macchina torna esattamente allo stato di prima semplicissimo ovviamente posso fare un firewall dedicato alla macchina virtuale quella che sto vedendo il resto non abbiamo più tempo quindi più o meno a grandi linee le stesse cose che ci sono per i nodi altre cose da dire per esempio possiamo ho bisogno di una copia su questo nodo della macchina per esempio voglio una copia della macchina di Fedora perché la Fedora è online mi serve una copia un'altra macchina virtuale uguale identica perché voglio fare delle prove senza fermare l'altra faccio clone a macchina ovviamente gli dico la vuoi sullo stesso nodo la vuoi su un altro nodo mi da un altro ID il nome della macchina clone Fedora per esempio pool di risorse ok clona tanto per far prima voilà abbiamo già un'altra macchina completamente separata uguale al 101 identica non devo fare altro che avvia e la macchina parte no se andiamo a vedere all'interno dello storage LVM perché a questo punto lui mi ha creato un altro disco sempre da 8 giga perché me l'ha fatto un altro identico un altro da 8 giga uguale al 101 che abbiamo copiato quindi abbiamo due dischi perché gli snapshot sono ultra veloci da fare perché non fa un backup non copia tutto i dati abbiamo finito il tempo comunque a grandi linee una panoramica su Proxmox sia in teoria che molto velocemente perché è pazzesco è gigantesco ovviamente da vedere ci vorrebbero 10 serate comunque più o meno abbiamo visto un po' tutto quello che può fare a grandi linee e direi che per questa sera siamo a posto abbiamo finito grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti